Sulla vicenda del licenziamento dell'infettivologo, il dottor Luigi Greco diventa doverosa un'ulteriore riflessione da parte dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, a pochi giorni dalla notizia dell'allontanamento dall'ospedale da Procida del noto professionista, 71 anni in pensione, che aveva accettato con un rientro in campo di mettere al servizio la sua professionalità dopo essere stato richiamato in un momento così difficile di emergenza, il presidente dell'Ordine dei Medici e Dodonto Iatri della provincia di Salerno, il dottor Giuseppe D'Angelo, ha fatto appello ai vertici aziendali a fare una riflessione. Questo perché giusto si legge in una nota che prevalga il bene dei pazienti rispetto ad un contrasto di opinioni doverosamente riassorbibile attraverso un sereno confronto. È un momento particolarmente difficile per la nostra comunità e pertanto è nostro dovere far prevalere le ragioni del bene comune sull'istintiva ricerca delle ragioni dei singoli. Il nostro caro e stimato collega, scrive il presidente dell'Ordine dei Medici d'Angelo, con la ben nota verba che ha sempre contraddistinto i suoi interventi, ha forse inopportunamente manifestato la non condivisione di alcune strategie dell'azienda, proprio quella che pur consapevole della sua storia professionale di altro profilo, ma incline alla libertà di pensiero, lo aveva voluto, da pensionato a rischio, reintrodurre nell'iter organizzativo e scientifico del progetto Covid-19, anche a dispregio della sua stessa vita. Anche i delegati aziendali delle organizzazioni mediche hanno manifestato la loro vicinanza al dottore Greco, esprimendogli la più totale solidarietà, condannando fermamente la condotta delle direzioni dell'azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, che a giudizio dei sindacati dovrebbe almeno sentire la sensibilità di porgere le sue scuse per l'atteggiamento incomprensibile assunto nei confronti di un collega, la cui professionalità è indiscutibile, prima richiesto e poi dagli stessi allontanato. Pur essendo il migliore, non ha fatto mai carriera, scrivono i delegati sindacali dei medici, proprio per il suo amore per la verità, senza limitazioni o condizionamenti. Non sarebbe più utile all'azienda e ai pazienti, invece di procedere a vendette personali, ascoltare i tecnici che lavorano sul campo e chiedersi se forse costoro ne sanno di più di chi i reparti li vede solo sulle carte, pensare di lasciare i Ruggi, sede di pronto soccorso Covid, reparti Covid e di una rianimazione dedicata che può raggiungere 24 posti letto, oltre le normali attività cliniche non Covid, senza il reparto di malattie infettive e pura follia. Non può bastare un'attività di consulenza mattutina, lasciando il resto della giornata scoperto. Grazie.